www.googlehome.com Una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Via Europa 82 a Castellammare di Stato. Siamo in compagnia di Mr. D'Angelo, un 2-0 del Pisa che non ammette repliche, giocato meglio rispetto alla Juve Stabia. Prendete tre punti dopo l'ottima prestazione anche contro il Benevento. Dimostrate che forse siete quella matricola terribile che tutti quanti devono temere. E' ancora un po' presto, la partita è stata ben giocata, a mio avviso, da entrambe le squadre. E' partita meglio di Juve Stabia, dopo il gol ci siamo liberati probabilmente anche del peso. E' scemato un po' l'entusiasmo della squadra stabiese. E noi siamo venuti fuori benissimo, soprattutto nell'ultima mezz'ora del primo tempo, dove probabilmente avremmo anche potuto raddoppiare. Poi nel secondo tempo, con Marconi, con il secondo gol, la partita è sempre un po' spenta, riaccesa soltanto dall'espulsione. C'è ancora il mercato attivo? Chiedete ancora qualcosa in queste ultime 22 ore? Noi forse abbiamo bisogno di un giocatore in attacco, perché siamo quattro attaccanti e probabilmente ne abbiamo bisogno di un altro under, giovane. Siamo in una neopromossa, tra l'altro noi abbiamo vinto i play-off, perciò ce l'abbiamo fatta proprio quel rotto della cuffia. E come obiettivo dobbiamo avere quello di... Intanto di giocare al massimo ogni partita e poi di salvarci, perché l'ultima volta che il Pisa è stato in B è subito sceso, e perciò noi vogliamo invece tenere la categoria a tutti i costi. Grande entusiasmo a Pisa, un buon numero, vi ha seguito fino a qui all'Avantella Castellammare. Consigliamo che anche di domenica sera è difficile adesso tornare domani e andare al lavoro. Che cosa vuole dire ai suoi tifosi? Noi abbiamo una grandissima tifoseria, abbiamo più di 5.000 abbonati, una città di 90.000. Lo sanno tutti che il tifo del Pisa è sicuramente di categoria superiore loro. Però non c'è dubbio, lo dice anche la storia. Ci seguono sempre in tantissime e siamo felici di avergli dato una grande soddisfazione.